Ragazzi, sta provando la tastiera Benvenuti nel terzo episodio di Minecraft Files Io sono Sweezer ed ho ricevuto Un'email criptata contenente diverse mappe Di Minecraft, non sappiamo chi e perché Ha fatto queste mappe, quello che sappiamo È che non siamo soli in questa inquietante avventura Dai Jenny, ti prego Ti prego Jenny, ti prego Ma perché mi devi stressare così tanto Non ho voglia, davvero Mi porta di nuovo alla tastiera Questa volta al mouse Ma che cosa cavolo stai dicendo, porca miseria Ma ti rendi conto, ma ti rendi conto Che quella serie è andato benissimo Eh ok E dopo che è andato bene, cosa vuoi dire con questo? Non lo faccio Scusate raga, stavo parlando Vabbè comunque No, niente, dobbiamo registrare Vabbè comunque Senza hai visto la serie, no? Quella Minecraft Files Sì, sì, l'ho visto Quella bellissima Volete un attimo dire a Jenny No, ma c'è, servi te pure Jenny Se non vai te Che cavolo Che effetto trucchetto messo lì Perché non vuoi registrare Jenny, scusa? Non lo so, perché ha paura Se non voglio registrare Hai visto l'ultima volta che cosa è successo? Ci devo passare io di mezzo? No, no Ma come? Scusa Lo sai benissimo Quando è che appare qualcosa? Non so Senza, no Non si sa Non ha senso Non hai capito niente Non ha capito nulla Senza, no, senza Tu credi che è tutto fake? Perché non Cioè, non ho capito No, cavolo No, senso Magari fosse fake Non ne ha capito il punto Cioè, non ne ha fatti i sbri Non ne ha fatti i sbri Non ne ha fatti i sbri Ok Ma qui specialmente tutto sto sbatti Nel fare tutta sta mappa Magari ad avercelo E fa sempre Va a entrare Ascolti Ok, ok Ha una cosa Non ti credo Hai le shader La Sildurse Ok, va bene Ma perché scusa Giambi l'aga Poi mettere le scelte No, lo so Senza, ma è obbligatorio Altrimenti potresti crashare Ti fa crashare Se non ti metti seriamente Aspetta che adesso Guarda, sono spawnata Di nuovo Davvero l'ultima volta Entrare Si può Vabbè Che significa Se può entrare Può entrare Può entrare Sì, sì Come fare un blocco basso Mi fa Buoh No, senza In questa maniera Ma come no No, ma cruco Che cosa cavo ridi Pure te No, perché Perché ci faccio De conigli morti Vai Stati Stati Perché Perché Mi danno Da sola E poi Loro Non ci credono Capito E ci passo Io Adesso Non vedo La succeda Poi A cavolo È vero Senza Nella strada Vero Vero Vedo Andarlo Un poio Di conigli Buttati Sotto Da una macchina Ma come Un poio Di Non Aspetta Stai Fermo Posso Mettermi No No Non Metterti Ti fa crashare Non è vero Ti crasha Non farlo Te l'ho detto Io Stupido Questa bambina Aiuta Ma non l'abbiamo Dessa E che vuole Come faccio Per rientrare Sono i nomi No Puoi rientrare Solo che ti fa crashare Di mettere Appena entry Ti metti Game o zero Un poio Di secondi Di tempo Esatto Ti do un poio Di secondi Di tempo Se non ti metti Uno C'è In zero Per almeno Qualche secondo Ti crasha Di nuovo C'è Sono In game mode Uno Vedi Non sto Crescendo Che problema C'è Scudo Te l'abbiamo Detto Basta Vabbè Messo Uno script Qualcosa E fa Crescere Sono Metti In game mode Ma Secondo te Come cavolo Posso mettere Uno script Che faccia Crescere Le altre Persone Ok Sì Sì Aspettate Guardate Questa Loro Raga Ma Si Ed è Ma Devi Essere Veloce Ho capito Ma Raga Ma È Cambiato Tutto Guardate L'albero Dove 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 Era Avevo Fatto L'incidente La Macchina Stava Bruciando Esplosa Raga Io Non sono Entrato L'intorno Di Questo Server Che Entrato Il Tre Ma Raga Raga Che C'è Succede No Raga Io Non mi Ricordo Di Non mi Ricordo Aspetta Violet Beh Sì Ciao Jenny Quei 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 Stavano Usando Per Quei 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 C'è Ma Stiamo Registrando No Sens Aiuta Sensi Che Non Capisce No Ragazzi Sensi Lo so Che è Strano Però è Seriamente Tutto Verro No Non l'ho Messa Neanche Io No Raghi Vi prego Andiamocela Da qui Vi scongiro Mi sta Venendo Un magone Aspetta Aspetta Un attimo Raga Aspettate Un attimo Ma Ci ti avresti Conto Che C'è L'albero Ancora E' Costruito Che succede No Ragazzi De pazzi Tanto voleva Provare Vieni qua Gianni Vieni qua Vieni qua Vieni 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 Cosa 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 Allora No Basta Lo so Aspetta Posso prenderlo Ah si Posso prenderlo Questo Ok Posso tradurli Semplicemente Comendo Incollando Ecco Sensi Brutto Di questa Mappa Che Tutta Seminata Di script Tra Bocchetti E di cose Che devi tradurre Dalla Linguaxosa Cos'è Senza Senza Ancora Non ci credi Seriamente Ti prego Non ho Senza Scherza Ma Porca Miseria Allora Allora Ho fremato La registrazione Senza Davvero Non sto Registrando Ok È tutto Vero Nel senso Sto registrando Ma non siamo In roleplay Ok La mappa L'ho fatta Io E l'abbiamo Veramente Scaricata Da un tizio Ok Che non Conoscere Ma Che mi ha Mandato via mail Vabbè In ogni caso Vabbè Se andiamo Avanti Poi la capirai Non so Speriamo Ok Bello Un cuffa Significa La morte E questo è Uno Aspetta We are the key to salvation Aspetta Aspetta Sa raga Che devo mettere Le cose per intero Qua per forza Che senso Nel senso Che è proprio Una frase Sì Però è di Misare Che solo Che non c'entrava Logicamente The faster for salvation Ma che cosa Significa Non capisco Ragazzi Vabbè Non lo so Non riesco a tradurre Magari Magari Ragazzi Voi ci aiuterete Ma non Non riusciamo a tradurre Senamente Beh Aveva senso Aveva senso Guarda cosa c'è dentro Quella c'è dentro Senso E basta Che stupido Dai Senso Non c'è niente da scherzare Lo vuoi capire Seriamente Sono serio Ragionata Pensante Sono serio Raghi seriamente Andiamo Andiamo Vabbè Ma non te li ricordi Il tizio nel furgone Qui c'era Uno impiccato Oddio Che fin l'hanno fatto Non ci so più Guarda Rimasto Sono le scuole Guarda 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 Lì Non c'è Non c'è quello impiccato Raga Ma dove cavolo Sono andati a finire Tutti sti poliziotti Davvero Ma cosa vuoi che ne sappiamo noi Non ne ho idea Ci avete fatto caso anche voi È assurda questa cosa Giro comunque sono molto spaventato Che schifo No vi prego No che maniamo in un punto solo Mi tiene Vabbè Noi stiamo continuando Che cosa c'era In quella cavolo di casa Andiamo a vedere A questo punto Perché davvero Guarda Vedi Non c'è neanche qua Che schifo Ma chi è che l'ha tolto Raga È entrato qualcuno Nel server qua Prima Prima che registravamo Nessuno vero Ma capite Ma capite Dopo una settimana Quanto cavolo può cambiare C'è come se non lo so La mappa vivesse da sola Come se ti voglio I blocchi si cambiassero da soli Scusa La prossima volta Prima di entrare qua Chiudere il server Così vediamo se ci sono cambiamenti È vero È ragione È ragione Non credo neanche io Spero realmente Che cavolo Perché altrimenti davvero sarebbe Dove cavale Eravamo qua Da questa parte Dovevamo salire Sense Questa parte Ecco Non ho messo anche il parkour Ma dai No Sense Basta Veramente È tutto vero Sense Ora vedi Ora vedi Ora vedi Magari ti accade qualcosa Allora io non ci vado lì No 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 Dai Ci andate prima voi Vado io Vado io Io la quella porta nella tocco auguri È vero come sarebbe più questa Sì No È chiusa Cosa si apre Sì Questa cosa si apre Aspetta Ah però qui c'è un buco Aspetta Salgo un attimo Vabbè dai Andiamo nella porta Già No 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 Andiamo nella porta Questa Perché non devi rispettare È cresciato È cresciato Come è cresciato Mi vedrà un attimo Non c'è E lo Non c'è Non c'è su Discord C'è su TS Doveva farlo La registrazione No Sens No È tutto vero Ma che cavolo Ma te l'avremmo spiegato Se stessimo recitando Non sia così stupidi Aiuto Che ne so Magari improvvisato No no Sens È tutto vero È tutto vero Porca miseria Crucco il crashato Non so Per quella motivo Per entrare all'interno Di quella stanza Mandare un messaggio Vedi Posso rispondere Vediamo Sì 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 Raga Non risponde Vabbè Sarà crashato È stata una coincidenza Andiamo Sto ragazzino Vabbè che non regge Le shader Quindi Magari è pure Proprio per quello Va bene Non si vede proprio nulla Direi di Utilizzare la torcia Porca miseria Che paura Raga Guardate i muri Aiuto Sono cagata in mano Mi sono Porca miseria Tentiamo a non cadere qua Ma che cosa c'è scritto Qua c'è scritto Get out Of here C'è scritto Esci da qua In inglese Ok Vabbè Esatto Lì c'è scritto Roba strane Qui c'è la Di avenger Sono dei lettini Qua sotto cosa c'è Vedi qualcosa No qua non vedo niente Aspetta Aspetta Si è spenta la torcia C'è un cartello No No è Come cosa Non l'hai visto Perfetto Cosa Non l'hai visto Sei scemo Che successo Sei pazzo E adivina faccia lì Come hai fatto a non vederlo Lo so Sto ero qua a modificare la torcia Cioè a Sistemarla Quel che è successo Perché avrei visto Stai scherzando Che vedete No ragazzi No 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 Ma che avete visto Ma io ho visto Ma io ho visto Cioè Meno che è una Fosse cruco Che ci sta trollando Malissimo Ma non è cruco Ma non era la sua skin L'hai visto Cioè ho visto Una roba strada Perché non lo stavo guardando Bene di qua Non lo so Che cosa hai visto Era un tizio Con una skin nera Tutta nera Una cosa bianca in testa Non lo so Ah Cruco Cruco Cosa Aspetta Mi sa Mi sa Di averlo visto Anch'io Quando editato il video C'era un tizio Che ci stava guardando Dalla finestra Ed era tutto nero Con la skin Cioè con la faccia bianca Cosa vuoi dire guardando Dalla finestra Ti giuro ci stavo guardando Dalla finestra Ma non l'hai visto Il video Non l'ho visto Il video Cioè C'ero lì Andiamo avanti Grazie per i messaggi Un attimo Intimidatori Bioware Significa Stai attento Credo No Bioware Sì Vabbè Credo che sia Cioè Credo che sia normale Vai Io non mi muovo Finché non andate avanti Voi no Ho finito di andare per primo Sembra abbastanza abbandonato Questo posto Mi pare logico Che magari ci siano Ok qua c'è l'uomo Sense Dimmi Ma che hai? Eh Nulla No Tranquillo C'è roba scritta lì dietro Vai 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 spaventarti Sense Non ci crede Basta No C'è ancora sense No veramente Cioè Non ci crede Non ci crede Ma comunque Non ci sto a credere Vabbè Comunque Ci sono altre cose Da tradurre Qua vai Porca miseria Che cavolo Mamma Non c'ho voglia Questa serie È finta Non reale C'è scritto Visto Che non è reale Eh vabbè Vai a quel paese Aspetta un attimo Non reale Non vero Tutto è permesso Che significa? Lo dice anche la mappa Che tutto non è permesso Se non è vero Non vero Tutto è permesso Non vero Tutto è permesso Io mi ricordo È tipo un vero o falso Lo vedi guarda Niente reale Ah aspetta Sembrerebbe l'attruzione Di nulla è reale Tutto è lecito Che se nulla è reale Allora tutto può succedere Una cosa del genere Aspetta There is no such thing As it seems Tipo non esiste cosa Come sembra Non è reale Tutto è lecito Quindi tutto quello Che guardiamo Non è vero Però tutto è permesso Quindi può accadere La qualsiasi cosa Solo che non capisco Con bula Ma raga ma come ha fatto Come hai fatto a mettere Il vetro che si spocca così Non l'ho messo io Non vuoi capire Che è tutto fatto apposta Qua Non l'ho fatto io Senza seriamente Seriamente Sono serio Senza Vabbè Andiamo avanti Vai Vabbè Qua vi ho credo Che bisognerebbe andare Senza però Perché avete attivato Il coso Del salto automatico Il jump Quello si chiama Quello lì Vabbè Non lo so Premi in esc Jump cosa? Non sto toccando la tastiera Allontanati Allontanati Che la prossima volta è successo a me Cosa? Ma serio Sei? Sto usando solo vast Cioè La spacebar Non lo sto usando Scusa Lei è sempre premuta La spacebar Lo sto provando a premere ora Vedi di staccarla Magari si è Incastrata Sì Io te l'ho detto Io te l'ho detto Io te l'ho detto L'ho tolta Sta continuando Che cazzo E ci rientra E ci rientra E ci rientra davvero E ci rientra E ci rientra Porca miseria Se succede qualcosa È colpa tua Io ti do Tutta la colpa E ti prendi Tutte le responsabilità Hai visto? Ma ancora Crucco non è entrato Ma oltre questo C'hai capito? C'hai capito? Cosa è successo? Mi hai sentito? Che se succede qualcosa a lui Io ti do la responsabilità E auguri E auguri con tutta la serie Ok Ma Andiamo avanti No ma Ora non so C'è più me l'ho Premuta ora Porca miseria Oh ma che è sto suo? Non lo so Non sta provando da sola Ma che cazzo Cosa? Non ha senso Ma stai scherzando? Dimmi che stai scherzando Ci stai trollando Ma stai scherzando? Ti preme la testa No vero giù ragazzi Si sta provando da sola la testiera Non capisco È proprio la sbattola Magari Cosa stai dicendo? Senso? Davvero? No Ok Ha smesso Ha smesso Ha smesso Ma che è stato Non veramente? Perché fa spazio? Aspetta Quel suono era la La barra spaziatrice Che si premeva da sola Ti sentiva? Si Ti sentiva Si Si sentiva? Premava da sola Hai detto Ma non sta Vi stavendo nel gioco È vero No Ok la cosa è Quanto in questo Strano Molto strano Come è possibile? No raghi No raghi Andiamoci Andiamoci Prova a riprendere Ora sembra funzionare bene Vabbè Andiamo avanti Andiamo avanti Andate avanti Andate avanti Vai 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 Io non vado avanti Andate voi Sono si eccitato Perché sembra figa Watch where you step Grazie Ok Attendi perché Oh mio dio Raga Guardate qua È un burrone infinito qua Porca miseria Ok Ok Fatemi saltare a me Primo Ok Davolo Non sono bravo No raghi Faccio schifo No Possiamo sapricemente a finirlo Ma effettivamente Mi sto un po' gagando Sinceramente Non ho visto Ebbè Direi Di certo Non c'è nessun plug In un modo Che ti fa premere La tastiera da sola A meno che non c'è qualcuno Che a casa mia Dovremo a premere Invisibile Mi Stai zitto Stai zitto Non dire queste cose Beh Sto cosa qui Se caschiamo di sotto Succede Mi ammazza Non lo so Però Spero di Ma onestamente Io non lo farei Cioè Perché Tutto quello che accade All'interno del gioco Poi si tramuta Nella vita reale Cioè Poi si tramuta Beh aspetta Cioè Non lo sappiamo ancora Guarda capisco Perché Jenny Non voleva registrare Prima Ecco Vai vai Prova Spengo la torta Perché così almeno Non mi lagga Ok Così noi caschiamo Di sotto Vai 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 Vi illumino la strada Ok brava Oh mio dio Avete sentito Cosa cosa Raga Sei chiusa la portata sola Lì No 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 aspetta no Porca miseria Ma sei impazzita Ok dai dai Ti illumino la strada Va bene Jenny Vai Vai avanti In questa parte di video Non so cosa sia successo Ma non sentivo Jenny Era come se parlassi da solo Ok bravissima 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 Ok dai Andiamo Andiamo Oh Jenny Oh Jenny Oh Jenny Cosa stai guardando Oh Jenny Che stai guardando Jenny Ma Prima Oh Oh Raga Tutto ok Ti stai guardando Ti stai guardando Ti stai guardando Che fai Che c'hai Ma non eri lì No Non eri lì Non eri lì Gianni tu eri lì Ma lì dove Lì Hai fallito il salto Ed eri lì Hai fallito il salto Ed eri lì Hai fallito il salto Ma cagati No Non ho fallito il salto Tu sei fallito Scusa Ho visto anch'io Ho saltato qua Tutto a posto Come ha saltato Voi avete visto che ha saltato Jenny Certo Voi avete visto che ha saltato Ho saltato Ce la fai È tutto ok Ti sei bloccato un secondo No raga Seriamente Seriamente Sono serio adesso Cioè ho visto L'ho anche registrato Sembra se magari Effettivamente C'era Jenny Poi lo vedrete nel video C'era Jenny Che ha fallito il salto E c'era proprio lei Che parlava Ok Nelle mie cuffie E quando Ha fallito il salto Si era messa lì E guardava La davanti Lì Cioè guardava lì E poi tipo Mi sono girato E ti è ricomparsata qua Ma no Lei ha fatto Tu hai visto qualcosa Ha fatto E poi è arrivata qua E poi è bloccato Ma raga ma stiamo scherzando No perché Ciò mi fa capire Ciò mi fa comprendere Sapete cosa Che finora Quello che sto vivendo io Quando Jenny è caduta Era semplicemente Uno scherzo Uno scherzo del gioco Andiamo avanti Ok Oh porca miseria Che paura Madonna mia Guardate qua Oddio Aiuto No ma è pieno di manichini No 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 raga Madonna Dai andiamo veloce Eh sì Ho capito Però Però dobbiamo trovare Crucco raga Pena di graffiti Mi fai un po' dire Comunque Di aver assoluto Questa cosa Veramente Sembrano reali Sti cose Cioè che si muovono Tra No aspetta Ma l'ho vista solo io Ma che cazzo No 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 raga No 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 raga No raga Ste cose no Però Non scherziamo Sciamo da qui Dove cazzo Un'uscita Eh non lo so Non si è uscita Nessuna parte Qua Qua c'è un buco C'è un buco Dove C'è un buco C'è un buco C'è un si riesco a vedere Un no no Una foglia Una lettera Non so che cosa No ma che è stato No 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 Che cacchio Che cos'era Cosa 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 Guarda da qui c'è un buco Ho visto passare un tipo Da quel buco lì Ma Cioè lo vedi Ti lo giuro L'ho visto Ma non c'è nulla Ma non c'è nulla Ma come come è possibile No C'è niente scritto In sta lettera No Ma come è possibile No ragazzi usciamo Usciamo che Crucco non è ancora tornato In tutto questo Dove è andare indietro Dove sta parte Ma che Che ne so io Qua 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 Dove siete dove siete Capo qua 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 Vieni Di regnata Ma che roba è Assurdo Un passaggio segreto Ok Aiuto Va bene Ok qui è da dove È scomparso Quella stanza beh sì in effetti facendo la parte veramente ma no 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 raga avete visto anche voi l'ho vista no 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 dobbiamo andare avanti dobbiamo andare avanti davvero davvero dobbiamo andare avanti perché ti vuoi così male ma perché dovevo scoprire cosa cavo chi cavolo ha fatto questa mappa pensavo che era tutto reggirato porca miseria riciclietta perché di non poter registrare ma porca miseria ma sto scherzando ma dovrei trucchi in tutto ciò perché la domanda non ha deciso raga no no guardate qua è appena entrato trucco e appena ha svoltato la il muro è entrato che su team speak ma che stiamo scherzando una scuola un attimo trucco quando 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 si è entrato dall'altra parte ok che cosa è successo c'è non lo so sono attraversato questo buco e che su team speak e poi non ho visto niente e poi niente solitano qua comunque dovete venire assolutamente a vedere questa una cosa assurda ma non riuscivi più ad entrare su mamma mia che paura ma hanno fatto di farlo geni no no sei caduta ma io presto una cosa continuiamo dopo ok come aspetta raga no dobbiamo continuare raga davvero no 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 davvero seriamente no io da soli non rimango non se ne parla a parte che abbiamo visto due volte quella specie di cosa nera di sotto l'ho vista anch'io davvero mentre era quello che ho visto passare e ah 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 ah